Il portaremo dal reparto? Va bene. Questo, va bene. Ma perché è un titolo più santo che non ha fatto stare in forza. Eh ma no, tu hai detto che adesso non sono volontari. Non so, sbagliato. Magari l'ha fatto di proposito. Potrebbe essere proprio discendente. Ma che male, no? Eh? Non è roba, è giusto. Sì, però mi aspettavo una cosa. Per esempio, non per il fatto che c'è una roba, che è un molto grande museo, per tutti i miei figli, ma... per aver parlato... ... 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